Vai! Allora Marzia, siamo appena buttati! Allora, la tuta abbiamo scoperto che tiene, è buona! Ed è una bella cosa! Decisamente sì! E ci buttiamo adesso, una alla volta! Marzia, quando vuoi! Attenzione! Dammi il via! Eh? Dammi il via! Ok! Attenzione, Marzia sta buttato! 3 2 1 Via! Eccola qua! E si è buttata! L'acqua, la temperatura dell'acqua saranno più o meno attorno ai 10 gradi, 8 gradi. È fredda! Ve lo posso garantire, è già erida! Però noi ci stiamo abituando, ecco la qua che torna su, la nostra eroina, eccezionale signori, eccezionale, l'esperienza da provare!